e Robben cerca il primo a fondo su Kivu e lo salda, entra in area, appoggia il pallone dietro prova Schneider, butta, primo vero intervento del portiere tedesco della gara Schneider controlla un buon pallone, lo abita, Milito in area, Milito, Milito, sempre Milito, porta in vantaggio l'Inter, alla 34esimo della primo tempo Milito stringe al centro, Schneider, Schneider, butta, con un gran senso della posizione l'attenzione è adattito perché filtra, appoggia il pallone largo, Giulio Cesar Milito, pallone dietro, Pandev, butta, in calcio d'angolo con un gran intervento prova Robben e poi Müller Robben al giro, Giulio Cesar vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter, Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito la firma è lui, questa finale che sono 45 anni che l'Inter sta aspettando questo momento perché ha vinto la 55esima Coppa dei Campioni per la 55esima Coppa dei Campioni Grazie a tutti.